non c'è mezzo più sicuro per preservare la pace e la felicità della famiglia con la recita del santo rosario il rosario un'arma potente per mettere in fuga il demonio per superare le tentazioni per vincere il cuore di dio per ottenere grazie della madonna questo il mio testamento spirituale amate e fate amare la madonna pregate fate pregare il rosario san padre pio il mondo a male andrà bene quando noi vorremmo ossia quando incomincieremo a pregare l'anima che si raccomanda con il santo rosario non perirà coloro che propagano il mio rosario saranno da me soccorsi in ogni loro necessità la madonnina gliel'ha detto a beato alano della rocche il santo rosario importantissimo mezzo per ottenere la pace e la liberazione dal male guarda un pietro rosario 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 E' pronto per volare. A posto. E' volato. Recitiamo il Santo Rosario anche oggi. 9 dicembre 2019. Ci avviciniamo al Natale. Meditiamo i misteri della gioia. La nascita di Gesù. Il primo però è l'annunciazione dell'Arcangelo Gabriele a Maria. Diciamo insieme il Padre Nostro e dieci Ave Maria. Padre Nostro che sei nei cieli, sei santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come un cielo così intera. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetta a noi i nostri debiti. Come noi li rimettiamo i nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberci dal male. Ame. Ave Maria piena di grazie al Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Ame. Ave Maria piena di grazie al Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Ame. Ave Maria piena di grazie al Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Ame. Ave Maria piena di grazie al Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Ame. Ave Maria piena di grazie al Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Ame. Ave Maria piena di grazie al Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Ame. Ave Maria, piena di grazia, al Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Ame. Ave Maria, piena di grazia, al Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte, ame Ave Maria piena di grazie al Signore con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte, ame Ave Maria piena di grazie al Signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso è l'ora della nostra morte, ame Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo come era nel principio, ora e sempre, nei secoli e secoli, ame Gesù perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia o Maria, regina della pace, prega per noi e per il mondo intero nel secondo mistero della gioia si contempla Maria è andata da sua cucina Elisabetta per aiutarla nelle faccende domestiche e Maria era incinta di Gesù e anche Elisabetta era incinta di Giovanni Battista però Elisabetta era più anziana e mamma Maria è andata da una mano incinta di Gesù Elisabetta appena ebbe udito il saluto di Maria ha capito che nel grembo di Maria c'era il salvatore del mondo cerchiamo allora da capire che Gesù è il nostro unico bene Padre nostro che sei nei cieli, si è santificato il tuo nome venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà come il cielo così intera dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimette a noi i nostri debiti come noi le rimettiamo i nostri debitori non ci indurre in dentazione ma liberaci dal male, ame Ave Maria piena di grazie al Signore con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è l'ora della nostra morte, ame Ave Maria piena di grazie al Signore con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è l'ora della nostra morte, ame Ave Maria piena di grazie al Signore con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è l'ora della nostra morte, ame Ave Maria piena di grazie al Signore con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è l'ora della nostra morte, ame Ave Maria piena di grazie al Signore con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è l'ora della nostra morte, ame Ave Maria piena di grazie al Signore con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prego per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte, ame. Ave Maria piena di grazia al Signore, con te tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prego per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte, ame. Ave Maria piena di grazia al Signore, con te tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prego per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte, ame. Ave Maria piena di grazia al Signore, con te tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prego per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte, ame. Ave Maria piena di grazie al Signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è l'ora della nostra morte e ame Ave Maria piena di grazie al Signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è l'ora della nostra morte e ame Ave Maria piena di grazie al Signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte ame Ave Maria piena di grazie al Signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte ame Ave Maria piena di grazie al Signore, con te tu sei benedetta fra le donne Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori Adesso è l'ora della nostra morte, Amen Ave Maria piena di grazie al Signore, con te tu sei benedetta fra le donne Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori Adesso è l'ora della nostra morte, Amen Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre, in secoli e secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe e preservaci dal fuoco dell'inferno. Porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Nel terzo mistero della gloria si contempla la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. Gesù è nato nell'umiltà più assoluta. Il Dio si è incarnato per noi. E si è sacrificato per noi. E non c'è amore più grande di quello che ha fatto Lui. Ringraziamolo. Esaltiamolo. Lodiamolo. Padre nostro che sei nei cieli, si è santificato il tuo nome. Venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà. Come in cielo così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimette a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori. E non ci indore in tentazione, ma ribarci dal male. Amen. Ave Maria piena di grazie al Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria piena di grazie al Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria piena di grazie al Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria piena di grazia al Signore con te tu sei benedetta fra le donne Benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte Ave Maria piena di grazia al Signore con te tu sei benedetta fra le donne Benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte Ave Maria piena di grazia al Signore con te Tu sei benedetta fra le donne Benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso è l'ora della nostra morte Ave Maria piena di grazia al Signore con te Tu sei benedetta fra le donne Benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso è l'ora della nostra morte Ave Maria piena di grazia al Signore con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è l'ora della nostra morte Ave Maria piena di grazia al Signore con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è l'ora della nostra morte Ave Maria piena di grazie al Signore con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo Come era nel principio e sempre nei secoli e secoli Gesù perdona le nostre colpe e preservaci dal fuoco dell'inferno Porti in cielo tutte le anime specialmente le più bisognose della tua misericordia O Maria Regina della Pace prega per noi e per il mondo intero Nel quarto mistero della gioia si contempla la presentazione di Gesù Bambino al Tempio E quando i genitori hanno presentato Gesù Bambino al Tempio a Simeone Un uomo giusto, timorato di Dio, illuminato dello Spirito Santo Simeone appena ha preso in braccio Gesù Bambino Ha capito che era il Salvatore del mondo Allora cerchiamo di essere tutti come Simeone Di capire che Gesù è l'unica nostra salvezza Padre nostro che sei nei cieli e sia santificato il tuo nome Venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà Comincialo così intera dacci oggi il nostro pane quotidiano E rimette a noi i nostri debiti come noi ne mettiamo i nostri debitori E non ci indurre in tentazione ma liberci dal male Ave Maria piena di grazie al Signore Con te tu sei benedetta fra le donne Benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso è l'ora della nostra morte Ave Maria piena di grazie al Signore Con te tu sei benedetta fra le donne Benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso è l'ora della nostra morte Ave Maria piena di grazie al Signore Con te tu sei benedetta fra le donne Benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso è l'ora della nostra morte Ave Maria piena di grazie al Signore Vai a racchiare il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo sedno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria piena, dì grazie al Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo sedno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria piena di grazia al Signore, con te tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria piena di grazia al Signore, con te tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria piena di grazie al Signore, con te tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, ame. Ave Maria piena di grazie al Signore, con te tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, ame. Ave Maria piena di grazie al Signore con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte Amen Gloria al Padre Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo come era nel principio ora è sempre nei secoli dei secoli Amen Gesù perdona le nostre colpe preservaci dal fuoco dell'inferno porti in cielo tutte le anime specialmente le più bisognose della tua misericordia o Maria Regine della Pace prega per noi e per il mondo intero nell'ultimo mistero della gioia si contempla Gesù ritrovato tra i dottori nel Tempio a dodici anni i genitori dopo tre giorni lo trovarono nel Tempio seduto in mezzo ai dottori che li ammaestrava con tanta sapienza e tutti rimasero meravigliati per la sua intelligenza anche i genitori ammaestrava i sacerdoti anziani nel Tempio Gesù Padre nostro che sei nei cieli sei santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come il cielo così intera dacci oggi il nostro pane quotidiano rimette a noi i nostri debiti come noi le rimettiamo i nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male Amen Ave o Maria piena di grazie al Signore con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è l'ora della nostra morte Ave o Maria piena di grazie al Signore con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è l'ora della nostra morte Amen Ave o Maria piena di grazie al Signore con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è l'ora della nostra morte Amen Ave Maria piena di grazia al Signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte e ame Ave Maria piena di grazia al Signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte e ame Ave Maria piena di grazie al Signore con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori Adesso è l'ora della nostra morte e ame Ave Maria piena di grazie al Signore con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori Adesso è l'ora della nostra morte e ame Ave Maria piena di grazie al Signore, con te tu sei benedetta fra le donne Benedetto il frutto del tuo seno Gesù, Santa Maria, Madre di Dio Prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, ame Ave Maria piena di grazie al Signore, con te tu sei benedetta fra le donne Benedetto il frutto del tuo seno Gesù, Santa Maria, Madre di Dio Prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, ame Ave Maria piena di grazie al Signore, con te tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, ame. Ave Maria piena di grazie al Signore, con te tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, ame. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo come era nel principio e sempre nei secoli e secoli Ame Gesù perdona le nostre colpe preservaci dal fuoco dell'inferno porti in cielo tutte le anime specialmente le più bisognose della tua misericordia O Maria Regine della Pace prega per noi e per il mondo intero Salve o Regina Madre di Misericordia vita, dolcezza, speranza nostra salve a te ricoriamo Niesoli figli di Eva a te e susperiamo Gementi piangenti in questa valle di lacrime Orso dunque Avvocata nostra rivolge a noi con gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo quest'esilio Gesù il frutto benedetto del tuo seno O clemente, O Pia, Dolce Vergine, Maria Adesso un Padre ave gloria secondo le intenzioni della Madonnina del Papa e le nostre richieste a Gesù per intercessione di Mamma Maria Padre nostro che sei nei cieli sei santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come un cielo così intero dacci oggi il nostro pane quotidiano rimette a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori non ci indore in tentazione ma ribersi dal male ame Ave Maria piena di grazie al Signore con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è l'ora della nostra morte gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo come era nel principio e sempre nei secoli dei secoli ame invocammo lo Spirito Santo che scenda su di noi e su noi rimanga sempre vieni Santo Spirito vieni per mezzo della potente intercessione del cuore immaculato di Maria tua sposa amatissima illumina le nostre menti infiamma i nostri cuori e distruggi in essi tutto ciò che ti adolora gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo come era nel principio e sempre nei secoli dei secoli ame vieni Santo Spirito manda a noi del cielo un raggio dalla tua luce vieni Padre di poveri vieni Datori di doni vieni Luce di cuori Consolatore perfetto o Aspite dolce dell'anima dolcissimo sollievo nella fatica riposo nella calura riparo nel pianto conforto o Luce Beatissima invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli senza la tua forza nulla nell'uomo nulla senza colpa lava ciò che è sordido bagna ciò che è arido sana ciò che è sanguina piega ciò che è rigido scalda ciò che è gelido drizza ciò che è sviato dona i tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni dona virtù e premio dona la morte santa dona gioia eterna Amen manda il tuo spirito sarà la nuova creazione e rinnoverai la faccia della terra ti adoro mio dio ti amo con tutto il cuore ti ringrazio di avermi creato fatto cristiano e conservato in questa notte ti offro le azioni della giornata fa che siano tutte secondo la tua santa volontà per la maggior gloria tua preservami dal peccato da ogni male la tua grazia sta sempre con me e con tutti i miei cari Amen e la benedizione di Gesù scenda su di noi e su noi rimanga sempre Amen nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo un bacio a Gesù Gesù sì nella mia mente Gesù sì nelle mie labbra Gesù sì nel mio cuore Amen Salmo 45 Dio è con noi Dio è per noi rifugio e forza aiuto sempre vicino nelle angosce perciò non temiamo se trema la terra se crollano i monti nel fondo del mare fremano si gonfiano le sue acque tremino i monti per i suoi flutti un fiume e i suoi ruscelli rallegrano la città di Dio la santa dimora dell'altissimo Dio sta in essa non potrà vacillare la soccorrerà Dio prima del mattino fremettero le genti i regni si scossero egli tuonò si sgretolò la terra il Signore degli eserciti è con noi venite vedete le opere del Signore il Signore degli eserciti è con noi nostro rifugio è il Dio di Giacobbe venite vedete le opere del Signore egli ha fatto portenti sulla terra farà cessare le guerre sino ai confini della terra romperà gli archi e spezzerà le lance brucerà con il fuoco gli scudi fermatevi e sappiate che io sono Dio eccelso tra le genti eccelso sulla terra il Signore degli eserciti è con noi nostro rifugio è il Dio di Giacobbe poi ci sarebbe da legge altri salmi salmo 46 Dio vincitore applaudite popoli tutti applaudite acclamate Dio con voce di gioia perché terribile è il Signore l'altissimo re grande su tutta la terra egli ci ha assoggettato i popoli ha messo le nazioni sotto i nostri piedi la nostra eredità ha scelto per noi vanto di Giacobbe suo prediletto ascende Dio tra le acclamazioni il Signore ha il suono di tromba cantate inni a Dio cantate inni cantate inni al nostro re cantate inni perché Dio è re di tutta la terra cantate inni con arte Dio regna su tutti i popoli Dio siede sul suo trono santo i capi dei popoli si sono raccolti con il popolo del Dio di Abramo perché Dio sono i potenti della terra perché di Dio sono i potenti della terra egli è l'altissimo ciao te saluto